Presentato ufficialmente presso la sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno, il Piano di Prevenzione e Contrasto degli Incendi Boschivi predisposto dall'Arma dei Carabinieri per la stagione estiva 2019. Un piano che mira a tutelare un territorio che detiene il 52% della superficie boschiva della Regione. A vigilare ci sarà anche un sistema di videosorveglianza che monitorerà la situazione nelle aree più critiche. La stagione è ormai iniziata, è un periodo di grave pericolosità sancito dal decreto della Regione Campania e quindi tutti gli enti e tutti i cittadini devono sapere che il periodo di grave pericolosità che decorre dal 15 giugno al 30 settembre è un periodo in cui tutti devono fare la propria parte. Quindi l'apparato di protezione civile, i comuni, la Regione soprattutto, le forze di polizia, i cittadini. Veniamo ai cittadini. I cittadini possono aiutarci in vario modo, soprattutto a tenere pulito i terreni e tutto ciò che potrebbe essere un potenziale innesco dell'incendio. Il cittadino può aiutarci soprattutto con una segnalazione immediata, segnalazione che può essere fatta alla sala operativa della Regione Campania o al 112 e 1515 che sono le centrali operative dei Carabinieri. Salerno è la seconda provincia in Italia e in particolare vediamo una recrudescenza del fenomeno nella zona del Cilento e dell'Agro Sarnese. E' chiaro che su queste zone dobbiamo tutti fare uno sforzo maggiore per essere presenti, attenti, vigili e non parlo solo delle forze di polizia, ripeto parlo di tutti, anche del cittadino che deve essere pronto a segnalarci qualsiasi movimento o segnale di fumo. Abbiamo delle pene pesanti previste dall'articolo 423 bis del codice penale, ormai l'incendio boschivo è considerato reato già dalla legge 353 del 2000 quindi c'è una congrua pena.